OnePlus prosegue anche nel 2021 con la sua linea Nord, questo è Nord CE, ovvero Core Edition, smartphone quindi più economico, non appartenente alla fascia di prodotti più alta, ma che vuole mantenere un po' tutte le peculiarità per cui OnePlus si è resa famosa. Questo smartphone arriverà il 2021, ovvero esattamente per il Prime Day, per non perdervi tutte le offerte di lancio di quei giorni vi consiglio di iscrivervi al nostro canale Telegram dove non vi copriremo di inutili notifiche per cianfrusaglie che non servono a nessuno, ma andremo a selezionare una per uno tutte le offerte migliori di quei giorni e non solo. Ma adesso non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo a scoprire il Nord CE. Questa è la confezione di Nord CE con queste tre scritte Nord sopra molto sbrillucicanti, all'interno della confezione abbiamo ovviamente prima di tutto il nostro smartphone che mettiamo da parte e poi abbiamo scatolina con all'interno, attenzione, la cover, cover in silicone con questa sorta di disegno, con questa specie di freccia che indicherà probabilmente sempre il Nord. E poi qua dentro abbiamo la manualistica e questo bigliettino di ringraziamento da parte di OnePlus e poi non è finito. All'interno della confezione abbiamo il cavo USB-USB-C, quello rosso classico di OnePlus e poi questo che è il Warp Charge 30T Plus, ovvero il caricabatterie per la ricarica rapida per il nostro Nord CE. Prima di andare avanti vi faccio vedere anche queste che sono le cover ufficiali per questo OnePlus Nord CE. A me piacciono moltissimo, sono ovviamente leggermente flessibili, sono tutte gommate, sono questo verde acqua, questo crema, questo nero, questo viola, tutti con questa sorta di pralinatura che li fa sembrare, secondo me sembrano dei gelati, soprattutto il crema e il menta sembrano proprio dei gelati. Mi piacciono molto con questo effetto sporco, l'ho fatto vedere anche a qualcun altro che invece ha apprezzato un po' meno proprio perché non ama l'effetto sporco, questo ovviamente sta a voi. Io che non sono un fan delle cover, questa l'ho tenuta in questi giorni perché mi è piaciuta. Eccoci qua quindi con OnePlus Nord CE Core Edition, questo smartphone che dal punto di vista del design sumida molto al nord dello scorso anno, con la novità che in questa colorazione blu abbiamo questa finitura satinata opaca che devo dire è molto bella, mi piace molto. Il grande vantaggio secondo me è il fatto che non trattenga le impronte, veramente non le trattiene quasi per niente e lo sapete è una delle cose che più mi infastidisce gli smartphone dal punto di vista costruttivo. È realizzato in una sorta di policarbonato migliorato, non saprei neanche dirvi, comunque non è vetro, si sente che non è vetro ma è comunque piacevole. Questi riflessi che vedete in camera violacei blu sul bordo ci sono anche nella realtà, sono molto particolari, sono molto caratteristici e ribadisco a me piacciono. È uno smartphone comunque nel complesso compatto, compatto per il mercato attuale, non in senso assoluto, non finirà nella nostra lista di migliori smartphone compatti ma se cercate qualcosa che non sia gigantesco questo lo è. Due tasti del volume a sinistra, il carellino per la doppia nano sim sopra il secondo microfono, il profilo è lucido, sul lato sinistra abbiamo il tasto di accensione, hanno tutti veramente un ottimo click. Sotto abbiamo la porta USB-C, il microfono, il jack audio e lo speaker. Le dimensioni, visto che vi parlavo di compattezza, sono 159,2 mm, 73,5 mm, 7,9 mm di spessore per soli 170 grammi di peso. È uno smartphone appunto che in tasca lo sentite molto poco e in mano è comunque abbastanza comodo da usare, non è un super compatto ovviamente, ma non è uno smartphone gigantesco. Lo metto da parte così vi racconto le specifiche tecniche. Abbiamo un processore Snapdragon 750G Octa-Core da 2.2 GHz con GPU Adreno 619, addirittura 3 tagli di RAM, 6, 8, 12, tutti LPDDR4X, 128, 256 GB la memoria interna, UFS 2.1, il 6 e 8 GB hanno 128 GB di memoria interna, il 12 ne ha 256. Purtroppo ancora una volta, come tutti gli OnePlus non espandibili, connettività 5G, Wi-Fi AC dual band, Bluetooth 5.1, c'è l'NFC, c'è il jack audio, ve l'ho fatto vedere, un grandissimo ritorno almeno rispetto al nord dello scorso anno. E poi abbiamo il lettore di impronte digitale, l'avete intravisto anche quello all'interno del display. Non è un sostituto del nord, si posiziona leggermente sotto al nord, ma poi insomma alla fine faremo un po' di ragionamenti su questa cosa. Il display, vado ad aumentare leggermente la luminosità, è un 6.43 pollici, quindi praticamente lo stesso l'anno scorso, 1080x2400 pixel full HD+, è un display AMOLED con dei bei colori, e ovviamente non poteva mancare, e questo OnePlus ormai ce l'aveva promesso anni fa, il refresh rate aumentato, che qui sta sotto avanzato, sono sbaglio, eccolo qua, con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Quindi la Oxygen OS, che già è molto fluida, ha una fluidità, se così vogliamo, ancora maggiorata dal refresh rate del display, quindi tutto molto fluido, non ci sono colli di bottiglie da questo punto di vista. Come sapete la Oxygen OS si è aggiornata con l'always on display, quindi eccolo qua, questo è quello mio preferito, quello che vi mostra, ve lo faccio rivedere, quante volte avete sbloccato lo smartphone oggi. E questa è la vostra giornata, i punti neri sono tutte le volte che lo smartphone è stato sbloccato, fa un po' parte di tutto quel pacchetto di benessere in cui troviamo anche, e adesso ci arriviamo, la Zen Mode, che adesso ha anche integrato questo riproduttore di suoni calmanti, come sapete già da qualche versione si può usare condividendo la sessione con altre persone, insomma molto molto bello. Oxygen OS 11, patch di maggio 2021, Android 11, due anni di aggiornamenti measure update garantiti, tre anni di patch di sicurezza aggiornamenti garantiti. C'è la Dark Mode, c'è la modalità gioco con la registrazione indietro, poi dopo vi faccio vedere, c'è l'avvio veloce con il lettore di impronte digitale, quindi voi tenete il dito poggiato sul lettore di impronte un secondo in più, e poi ci sono delle funzioni che voi potete attivare la più rapidamente e ovviamente personalizzare. Se andiamo nelle impostazioni, qua giù, nelle utilità, troviamo le app parallele, quindi la possibilità di sdoppiare le applicazioni social per usare un secondo account, c'è l'app Locker per la crittografia e nel drawer c'è questo che è lo spazio nascosto in cui nascondere le vostre app di cui vi vergognate di più, che non saprei, sinceramente non so quale, sono curioso, fatemi sapere nei commenti quali sono le app che voi vorreste nascondere, sinceramente, tanto poi internet è tutto anonimo, io sinceramente non mi viene in mente niente a parte, forse proprio le ovvietà. Il software OxygenOS, sempre veramente super fulmineo, personalizzabile sotto vari aspetti, tra l'altro questa è l'impersonalizzazione della home, ma se andiamo qui abbiamo un menu dedicato alla personalizzazione dove possiamo cambiare alcune cose, fra cui l'accento di colore del sistema, le icone di sistema, la forma delle icone di sistema, le icone stesse e il font. Mi piace che ci sia questo OnePlus Sans preinstallato che gli dà un po' di personalità. Fotocamere, arriviamo al comparto fotografico, abbiamo tre sensori fotografici principali, una 64 megapixel f1.79, una 8 megapixel grande angolare da 119 grammi di apertura f2.25 e una 2 megapixel, tra l'altro non in realtà è questa qua giù in fondo, 2 megapixel f2.4 monocromatica per migliorare in teoria i risiscatti finali, vabbè. La frontale è singola, lo specifico perché nel nord ce ne sono invece due, è una frontale 16 megapixel f2.45, apriamo la fotocamera, andiamo a fare due foto a queste cover che vi ho mostrato prima, interfaccia semplicissima, qui ci sono i tasti per passare alla grande angolare e fare uno zoom che vi ricordo è tutta interpolazione, scorrendo qui avete tutte le impostazioni di scatto a rapido accesso, quindi senza dover stare qui a scorrere una per una, tra l'altro dovete proprio farle scorrere una per una, non potete andare a scorrere velocemente, quindi per molti versi è molto più comodo fare così. Qui abbiamo invece tutte le altre impostazioni aggiuntive, interfaccia che mi piace molto, una delle mie preferite, quella di scatto di OnePlus, ma andiamo a vedere come vengono le foto. Allora, non c'è la stabilizzazione ottica che c'era sul nord dello scorso anno ed era un po' una delle sue peculiarità, ho visto un po' di critiche nei commenti a questa cosa, io la trovo, trovo delle critiche abbastanza insensate, perché in questa fascia di prezzo la stabilizzazione è quasi un'utopia, giusto forse il Galaxy A52, che comunque non costa questa cifra qui, ma essendo sul mercato da un po' è sceso a quasi questa cifra qui, poi alla fine vi dirò tutto. Le foto le state vedendo sono praticamente tutte buone, non sono fantastiche, la gestione delle luci non è perfetta, a volte ci sono delle aree all'interno di una foto con una buona messa a fuoco, delle aree un pochino meno nitide, ma nel complesso sono delle foto giuste per questa fascia di prezzo, non sono né migliori né peggiori, solitamente gli smartphone c'è un po' di sbilanciamento, c'è chi si mette al 100% nelle fotocamere, chi invece le tralascia totalmente, qui abbiamo un compromesso. Le grandi angolari sono ok, 8 megapixel non è che siano poi granché, quindi quello che viene fuori è quello che vedete. Con poca luce si sente sicuramente la mancanza dello stabilizzatore ottico, sì c'è la modalità notturna, l'azienda ci spinge molto su questo Nightscape, ma se è veramente buio non è che si possa fare granché, e anche con poca luce le immagini non è che siano proprio nitidissime. Comunque tutto assolutamente nel range di accettabilità di questo prezzo, questa fascia di prezzo lo vedete, quello che proprio non mi ha convinto invece è la fotocamera selfie da 16 megapixel, che non sono riuscito a farmi un selfie che mi avesse davvero al 100% lasciato soddisfatto. I video in 4K stabili, buoni, e in 1080 anche dalla grandangolare, e in 1080 potete anche cambiare fra grandangolare e principale. Andiamo ad aprire Call of Duty Mobile, così vediamo sia la... Perché uscire? Tempo scaduto, boh vabbè, era rimasto in RAM, perché siccome sto provando il 12GB di RAM c'è così tanta memoria che non so quanti giorni era che forse è rimasto in RAM, non lo so, ma mi pare anche di averlo spento. Ok, apriamo il gioco, vi dicevo, testiamo quindi l'audio, che è mono, esce solo dallo speaker inferiore, niente quindi di sorprendente, ma assolutamente accettabile. Abbassiamo un po', in realtà la pressione sonora è anche buona, ovviamente se lo coprite per errore poi vi perdete un po' tutto. Un buon smartphone per giocare, anche qui ho letto qualche critica sul fatto che l'hardware sia già vecchio, ragazzi, ma è una Snapdragon 750G in uno smartphone quasi di fascia bassa, quasi, eh, perché insomma in realtà il prezzo è ancora un po'... è nella fascia media, però insomma dire che questo sia un hardware datato, io, vabbè, questi sono un po' i commenti del web, quelli che lasciano un po' il tempo che trovano, che vengono lasciati un po' senza pensare, un po' senza pensare, soprattutto che questi prodotti vanno paragonati non solo alla concorrenza, ma anche alla realtà e anche al prezzo di vendita. Allora, molto bene la parte di gioco, devo dire che qui ormai in realtà sappiamo che lo Snapdragon 750 è già ampiamente sopra le richieste, oh, niente, questo non vuole morire, su sì invece, niente, che scarsezza, scarsezza non si dice, scarsitudine, ancora peggio, comunque neanche mezzo frame perso, non riesco a ammazzare neanche un terrorista oggi, gli vado addosso così proprio ci leviamo il pensiero, vediamo se riesco, niente, va bene. Comunque, si riesce a entrare nel gioco molto velocemente, a uscire neanche molto velocemente, ah, no, no, una cosa che non vi ho fatto vedere, la registrazione, riavvolgimento e registrazione, e questo tastino, in sostanza, lui registra sempre, più o meno, e quando voi fate un tap, lui va a salvare gli ultimi 30 secondi, quindi lui vi salva i secondi precedenti, è bello perché voi magari fate una superazione e solo a quel punto registrate la clip che volevate. Arriviamo a parlare di batteria, 4500 mAh, che è un buon risultato per queste dimensioni, era 4100 qualcosa, non mi ricordo, quella del Nord, quindi bel lavoro per compattare, ingegnerizzare tutto e farci stare una 4500 qua dentro, che, devo dire, è stata molto buona, anche in un giorno di trasferta, avete visto quelle foto con le Lamborghini, sono arrivato a fine giornata che avevo ancora un po' di batteria, anche avendolo, appunto, stressato a dovere. E in più abbiamo anche la ricarica rapida 30 Watt, Warp Charge 30T Plus, che è a sia 30 Watt, ma carica da 0 a 70% in 30 minuti, che è lo stesso valore dello scorso anno del OnePlus Nord, che però aveva una batteria più piccola. Eccoci qui, quindi, alle conclusioni, questo è OnePlus Nord CE, Core Edition per il 2021, uno smartphone che si posiziona un po' sotto a OnePlus Nord, ma che, secondo me, ne racchiude un po' completamente lo spirito. Sì, è vero che l'hardware è leggermente inferiore, per esempio, la RAM si parte da 6 GB, adesso vi racconto tutte le configurazioni, ma ha lo spirito del OnePlus Nord, che tanto mi era piaciuto lo scorso anno. Tra l'altro, non l'ho detto quando ho parlato del display, ma come non ho avuto problemi con il display dello scorso anno, era un sacco di polemiche sul light bleeding, su delle scoloriture del pannello, anche questo con pochissima luce, nessun problema, mi ero dimenticato di dirlo. Lo aggiungo ora alla fine. In più, per essere uno smartphone concreto della fascia più bassa, sì, è vero che ha perso lo slider, e questo è un peccato, ma ha guadagnato il jack audio, che forse è ancora più importante, per quanto lo slider delle suonerie fosse molto caratteristico per la famiglia OnePlus. Lo smartphone parte da 299 euro, che secondo me è veramente un ottimo prezzo per comprare uno smartphone, che è leggero, è un po' più compatto della media, ha una bella finitura, il jack audio, ha un software velocissimo, refresh rate alto, e un bel display, insomma, un bel pacchetto. Si tratta della versione 6128, c'è poi quella 8128, che costa 329 euro, ma non so se spenderei questi soldi in più per la RAM, se non fosse che al momento la versione quella più piccola su Amazon non si trova, magari se volete comprare per forza su Amazon, allora potete partire da quella, se no si arriva alla 12256, che costa 399, ecco, 12 giga di RAM non vi servono, OnePlus ha fatto un po' forse la furbata di non fare la 8256, che avrebbe catalizzato tutte le vendite, che però forse era quella più intelligente di tutte, ecco, dovete quindi un po' scegliere fra questi tagli di memoria, che secondo me sono un po' bislacchi, se così vogliamo dire, prezzi comunque molto buoni, che è molto probabile che appunto possano essere anche scontati ancora in futuro, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al nostro canale delle offerte che trovate su Telegram e il link ovviamente in descrizione, insomma, un bello smartphone OnePlus, ha quasi tutto, il punto un po' più debole è probabilmente quello delle fotocamere dove la fotocamera selfie non mi è piaciuta, la grande angolare non ha una grande risoluzione, la principale di notte un po' soffre senza la stabilizzazione ottica, è probabilmente il compromesso di questo smartphone per poterlo avere a questo prezzo. Per questa recensione di OnePlus Nord CE è tutto, grazie per averci seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e a un prossimo video. Ciao! 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 Ciao!